La prima richiesta è stata quella della dichiarazione di calamità naturale, ho ascoltato, ho sentito telefonicamente questa mattina il Presidente Spirli, mi ha garantito che dopo domani alla riunione di giunta verrà dichiarato lo stato di calamità naturale, finalmente anche le altre nostre richieste, le richieste della regione di aumento dei mezzi, delle risorse umane per fronteggiare l'emergenza sono state approvate ieri da un decreto del Presidente del Consiglio Mario Draghi che ringrazio, sono già arrivati nella nostra regione diversi volontari delle associazioni di protezione civile ed è stata aumentata anche la portata e il numero dei canadeir per poter intervenire prontamente. C'è ancora molto da fare, i sindaci chiedono maggiore coordinamento delle attività, proprio per questo chiederò al Prefetto, Sua Eccellenza Massimo Mariani, di avviare un tavolo permanente di coordinamento per quelle che dovranno essere le attività messe in campo dalle forze dell'ordine.